Ciao a tutti, qua è Lollipaster e bentornati in un nuovo video. Ragazzi, oggi siamo a fare una reaction a prova a non ridere. Ragazzi, questa reaction è a vedere dei video che fanno ridere, però bisogna cercare di non ridere. E quindi voi potete guardare la mia reazione a questi video. Allora, non perdiamo 5 chiacchiere e andiamo a vedere il primo video, ragazzi. Ecco qua il primo video, si chiama Challenge, prova a non ridere. Ti sfido a non ridere. Assa manassa, video divertenti, 2016, 2017. Durano 10 minuti, quindi guardiamo. Te si ridi? Questa l'ho già vista, mi sa, eh? Ho preso paura. Una mia è via. Spettacolo. Che mi fa sto qua? Oddio. È fin... No. Oddio. Madonca, si è spraccellato. Ah! È quella della Coca-Cola, la pubblicità è Coca-Cola. Vediamo questo? Sto da sorridere, questo qua sorridi a casa. Sempre... Si splodeva. Comunque deve ridere. Fa lavoro. Trapana. E non capisco perché è tutto nero. Oddio. Ok, va bene. Avrà mangiato gli mele, sicuramente. Si, ha mangiato il limone. Vediamo questi. No, solo mucho. Oddio. Non c'è. Non c'è nessun senso. Ah, non c'è nessun senso. Oh, non c'è nessun senso. Oddio. Posso tagliare, tagliare. Non c'è nessun senso. Il nostro motion. Oddio no. Mi faccia il cameraman. Però sembra bello fare questa roba. Però rompi la telecamera. Un gatto, attenzione, nessun cane. In acqua. Perché i gatti hanno paura. Oddio. Tagliare. Dona richita. no no No, pensavo che l'avevi scelto il lato Vai ragazzi No, in faccia Senza ruota Vai vada Mamma, che male Però era ovvio Visto qua? Cosa vuoi farci vedere? Ah, si è rato Oddio, ho tolto tutta l'acqua No, 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 il dente No, mi tolgo Oh Cosa? Almost dead Oh What? What? No, è sì Oh, cazzo Dove una buona persona che da fuori Marisa Oh, beccato in testa Oh, beccato in testa I'm the guy with the bass and drum, going around like bum 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 Eh, il drone doveva finire, no, no, adesso cade, adesso cade di sicuro, o cade, eh, o cade, o cade, o cade, o cade, si sapeva bene, lui è scemo Allora, questo va proprio qua, tutti soppilando Che male sarebbe che ti svegliano così Classica blu città Stanto a te un pollo, naga Vediamo se va E' grande, è questo E' che vuole pro l'arte Che vuole l'identa No 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 no!! No! No, no � Ma tutta pubblicità lusse c'è Sei dato male? A caso Amici Eh la pubblicità questa Vecchia, molto vecchia di un film No un film non lo sento più Non mi ricordo, scusate No dai, questo qua che E rimane in piedi Rimane in piedi Raga No, no, le tira È un molfo È un molfo Stogato, un molfo Che male No, no, non fai Oh dai, come fai fai Oh no, non è uguale Non si rassi più secondoLY Tontano Ha ha Bello sta qua Oddio, rincainação dei gatti no ha bruciato la macchina ma la sua camminata secondo me lei non si gira mai ecco cade non è abituata no sto cane col broccolo attenzione broccolo contro cane cane contro contro broccolo madonna no la polizia questa roba a sarà per il piace nostro cane è un gatto singa ma è anche lì perché lo apre così ma stai stupendo è un gatto dovrebbe essere buongiorno madonna sti qua ti vengono imperibili a vederli come brumotti ha fatto il ponte più alto d'europa no sto qua no che figata strafigo ama perché sono a per gli accenni pirati di carabie attenzione perché ci sono le tipe perché le tipe ma cos'è sta roba che mi dico lo mordo ehi gatto dei uno dei tre dei quattro non 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 Noi. Bambo. Come on, I'll show you. Eh, colocano. Disgusting! in due non ce l'ha fatto oh no 4 tonnellate e raga questo qua era il video che facevo vedere la challenge prova a non ridere spero che vi sia piaciuta questa tipologia di video è un primo video sto portando tanti nuovi format e spero che questi nuovi format vi piacciono avete visto che ho portato anche la webcam in questi video li porterò per fare le reaction detto questo io vi posso dire che il video può finire qua iscrivetevi al canale se non avete cosa fatto commentate, lasciate like per questa nuova serie e noi ci rivediamo a un prossimo video oh ciao adios ci rivediamo a un prossimo video